E' bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, qui di guide, oggi questo qui è il mio primo vlog dove farò vedere tutti i miei giochi per playstation 4 e i miei accessori Allora c'ho NBA 2014, GTA V, FIFA 15, che ho caricato un video che uscirà, non credo poco, insieme a questo vlog, Battlefield 4 dove farò le partite online, The Last of Us oppure le partite online e la storia, Minecraft e Kizan Shadow Fall Allora queste qua sono le mie cuffie migliori, queste, le mie, sì, credo che si chiamino così E le ho prese e me le hanno regalate in offerta con FIFA 15 e poi le solite cuffiette che danno con la playstation, queste Poi qui c'è il mio joystick, nero Beh che dire, scrivetemi fra tutti questi quale volete fare e io vi saluto, bella raga